Musica First of all, prima di iniziare il video ragazzi vi invito ad andare sul canale di Gamers No Limits Clan Trovate il link in descrizione Perché questo? Perché è il canale che usa e viene utilizzato comunque Fa video, fa comunque grafico e roba varia Quello che è il mio grafico è sicuramente un canale interessante Che mi ha sempre supportato da quando ho iniziato a fare video Quindi let's go che ci sta il video Let's go bitches, benvenuti ancora a Power Personal Trainer In questo caso non sto ancora facendo cerca di estruggi perché voglio cercare di farlo con un team Magari giocando Game Battles, quindi spiegandovi le tattiche Quindi al momento vi dovrete assorbire Blitz Che è una modalità che ho affrontato pochissimo Quindi via, vi spiegherò un pochino le spawn kill su Blitz Come fare? Allora, su Freight in questo caso conviene vedere la zona di destra di rosso Infatti come vedete mi posiziono qui Subito uno spunta nel mirino e muore Cosa bisogna fare qua per fare spawn kill? Bisogna muoversi a destra ovviamente con tutto il team Come vedete Mankiw si trova lì davanti Io pure mi sposto con lui nella zona di legno E andiamo, cominciamo anzi a fare qualche kill Perché in questo caso cominciamo a fare kill? Perché tanto i nemici le spawnano sempre in questa zona Una cosa che dovete stare molto attenti È che non vi spawnino nella zona di rosso Cioè nella casa dietro di voi, quella con tre piani Infatti guardate, mi sono girato Perché ho visto che c'era un mio compagno sulla sinistra Non so se lo vedete, quello che sta andando a fare punto ora Che era proprio in quella zona Infatti i nemici stanno rinascendo qua Ma ugualmente è molto semplice da fare Vi basterà stare un po', come si può dire, camperati Tornare indietro se vi serve E continuare ad eliminarli E guardate i punti, in un minuto già abbiamo fatto tre punti Nonostante qualcuno è morto mentre lo andava a fare Quindi ricordatevi, molto importante Cercate di rimanere in questa zona Fatevi aiutare da un altro compagno In modo che gli altri avversari si perdano a cercare voi E non vadano a fare punto Quindi la strategia migliore da fare è sicuramente stare qua In uno o due persone In modo che tutti gli avversari siano concentrati su di voi Non sul difendere e nemmeno sull'attaccare Quindi i punti fioccheranno praticamente a manetta Come vedete le kill vanno avanti Quando vedo poi che i miei compagni Non riescono più comunque a fare punto Perché gli avversari hanno un po' capito che mi devono lasciar perdere Infatti la contrattica è lasciar perdere quello allo spawn E cercare di concentrarsi sull'attacco Decido quindi di avvicinarmi per cominciare a fare qualche punto pure io Come vedete vado e via, boom, punto E così via Quindi ricordate sempre girare nello spawn Non stare mai fermi nello stesso punto Ma anzi pure non uccidere gli avversari Farli correre in modo che magari uccidete quello che era dopo di loro E in quel modo Dopo aver ucciso magari uno che era spawnato più tardi rispetto all'altro I nemici si girano, torno indietro E quindi danno le spalle a quelli che sono i vostri compagni Che vengono da centro mappa Io spero che vi abbia aiutato questa piccola cosa in Blitz E anzi non vedo l'ora di affrontarla in Cerchi Distruggi Perché ci sono magari delle tecniche, dei movimenti molto più particolari Però l'unico modo diciamo per trattare di Cerchi Distruggi È comunque giocarlo con un team Perché da soli non si possono fare Cerchi Distruggi richiede comunque teamwork Quindi fare cose da sole al posto c'è Diciamo non sarebbe molto utile più che altro Vi farebbe solamente capire come ragiono quando sono da solo Ma non quando sei in gruppo Perché si fanno determinate cose Perché si cambia la bomba Cos'è il da botti in mare e cose del genere Quindi come vedete comunque Qui in Blitz sempre stessa strategia Attaccare, nascondersi qui dentro Cercare di fare le kill e via Io spero che il video vi sia piaciuto Bitches E quindi ci sentiamo al prossimo video Che sarà ovviamente le risposte al question and answer Let's go bitches